Sicilia, terra meravigliosa circondata da un mare ricco e prezioso. Mare con cui da sempre vive in simbiosi, creando un rapporto esclusivo fatto di rispetto, collaborazione e qualche burrasca, proprio come vecchi amici. Mare che custodisce una risorsa primaria per l'uomo, il pesce. Un tesoro che i pescatori cercano ogni giorno, sperando nella buona sorte, come un rito che il tempo non ha scalfito e che l'amore per questa terra e per questo mare conserverà nel tempo. La pesca siciliana è un patrimonio da difendere e valorizzare, insieme agli uomini che la vivono ogni notte e ogni alba, con passione, che oggi ti aiuteremo a conoscere. Questo tour si propone, comunicando in maniera completa e articolata, di coinvolgere le persone e renderle partecipi, facendo respirare in Europa e in Italia la brezza delle coste siciliane, lasciando nelle piazze del tour un profumo della nostra terra e portando di fronte ai visitatori il vero sapore dei nostri mari. Il vero sapore, il vero sapore, il vero sapore, in ogni città ti attende un villaggio, dove potrai degustare il pesce di Sicilia, scoprirne le origini e la qualità, le sue proprietà benefiche. Noi sono statifriends, ora non sono stati insieme a noi, sono stati insieme a noi, e non sono stati insieme ai contali, sono stati insieme aiutori italiani, sono stati insieme a noi, nascono un'immagine di Milano, ma non secondo l'imposte. E qualche segreto per cucinarlo al meglio. E qualche segreto per cucinarlo. E qualche segreto per cucinarlo. Il pesce azzurro di Sicilia ti aspetta. Accomodati.